Anche quest'anno abbiamo un'annata decisamente calda e siccitosa. Abbiamo un luglio, attualmente sono passate un paio di decadi, che sta a un grado sopra la media. Siamo intorno ai 25,9 invece dei 24,8 che è la media storica. Giugno già è stato più di due gradi sopra la media, 24,9 rispetto alla media di 22,7 che è la media climatica degli ultimi trent'anni, che già era superiore di circa un grado rispetto alla media del secolo scorso. Perciò siamo in progressione, continuiamo ad aumentare. Maggio, già anche maggio un grado e mezzo sopra la media, 19,7 rispetto ai 18,2. Praticamente siamo già a tre mesi di clima estivo e questo ce lo sentiamo. Questa anomalia dell'estate che comincia presto si era già verificata anche precedentemente negli due anni precedenti. Quello che sta cambiando veramente non sono tanto i picchi, le massime assolute. La massima assoluta di Pesaro, che è un 39,2, risale addirittura al 6 luglio del 50 e se ne sta lì tranquillo. Ogni tanto è minacciato, adesso vedremo anche questo weekend che ci dicono che sarà torrido, cosa succederà. Quello che sta aumentando e sta cambiando veramente il clima sono queste ondate di calore che sono sempre più frequenti e persistenti. Quello sì, stanno cambiando più che le punte, le medie e quelle veramente cambiano il clima. C'è da notare anche che abbiamo già raggiunto e superato 27 volte la temperatura massima giornaliera di 30 gradi. La media normale dell'ultimo trentennio è di 12, perciò siamo già a più del doppio, praticamente è un mese d'estate in più abbondante. Mentre le temperature minime sopra 20 gradi, che tecnicamente sono dette notti tropicali, già questo ci dà un'indicazione di come sta cambiando il clima, sono anche loro state già 27. Contro una media normale per questo periodo, diciamo fino al 20 di luglio, seconda decada di luglio, di 15 negli ultimi trent'anni, che sono già 30 anni caldi. Il secolo scorso la media per questo periodo era di 9 e qui vediamo la progressione di come sta aumentando questo caldo. Invece per quello che riguarda le precipitazioni, si parla di siccità, è sotto gli occhi di tutti, si parla anche di piogge che si fatica a trattenere, immagazzinare. Fino a tre anni fa si guardava che le precipitazioni cambiavano il regime, ma non tanto la quantità, perché addirittura erano leggermente di più della media del secolo scorso, o quanto la distribuzione. Mentre invece sono tre anni che sta decisamente calando anche la quantità, specialmente nel periodo primaverile-estivo. Quest'anno attualmente siamo intorno a 223,8 mm, siamo già a quasi 190 mm al di sotto di quella che è la media normale, 190 mm alla pioggia di tre mesi abbondanti. Anno scorso, lo stesso, in questo periodo, eravamo ancora a 225 mm sotto. Due anni fa, 207 mm, sono dati abbastanza simili, che si stanno ripetendo, ancora sono tre anni, dicevo le medie climatiche si fanno su 30 anni, e fino a qualche anno fa non avevamo ancora evidenziato nessun caldo di precipitazioni, in mano a diversa caromai distribuzione, si andava verso i 20, magari i più concentrati, maggiormente intensi. In te adesso c'è anche questo caldo di precipitazioni che ci preoccupa non poco, perché alla fine dell'anno ci mancano due o tre mesi di precipitazioni, e questo deficit si accumula nel tempo. Tenga conto che se guardiamo i sei mesi siamo già su una siccità moderata, se guardiamo solo gli ultimi tre mesi la siccità comincia a essere anche severa.